La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3930, presentata dai deputati Fratoianni ed altri, che ha ad oggetto iniziative anche in sede europea per un immediato cessate il fuoco nella striscia di Gaza e per una soluzione del conflitto in linea con il principio due popoli, due stati. Il deputato Fratoianni ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Grazie Presidente. Signora Presidente, a Gaza la situazione è infernale, le vittime crescono ogni ora, siamo ad oltre 25 mila morti, molte migliaia di queste sono bambini, donne vulnerabili. Nel frattempo ci sono ministri israeliani che propongono di costruire isole artificiali dove portare i palestinesi, altri ancora oggi che propongono ancora una volta di sganciare la bomba atomica sulla striscia di Gaza. Nel frattempo lei e il suo governo avete ripetuto più volte che l'unica soluzione possibile è quella di due popoli e due stati e io condivido questa posizione e avete più volte detto ad Israele che deve difendersi ma nel rispetto del diritto internazionale umanitario. Il diritto internazionale umanitario è stato travolto, non violato in questi oltre tre mesi di guerra e Benjamin Netanyahu ha recentemente dichiarato che finché ci sarà lui non ci sarà mai uno Stato palestinese. Sono qui a chiedergli cosa pensi di queste dichiarazioni e quali concrete ed urgenti iniziative intenda proporre anche in sede europea per arrivare al cessato del fuoco e per costruire credibilmente una prospettiva di pace in quell'area. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgio Ameloni ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente, buon pomeriggio colleghi. Dunque collegato Fratoiani, io francamente devo dire la verità, sono un po' colpita dal fatto che sia nel testo dell'interrogazione sia in questa pur diciamo breve domanda si sia omesso di citare gli eventi che hanno scatenato la crisi meteo orientale ovvero il feroce attacco di Amasi, il massacro di innocenti, donne e bambine compresi, il rapimento di civili come ostaggi gli stupri usati come strumento di guerra, il martirio dei cadaveri da mostrare al mondo e vede davvero non lo dico per una questione polemica, lo dico perché per rispondere cioè perché penso che sia questa ambiguità che è un'ambiguità sempre più diffusa in Occidente e che nel Medio Oriente diventa addirittura rifiuto al riconoscimento del diritto all'esistenza di Israele ad essere quello che oggi è il principale ostacolo alla soluzione dei due popoli e dei due Stati. Come lei sa l'Italia ha sempre ribadito che il popolo palestinese ha diritto a uno Stato indipendente sicuro, economicamente prospero, è una posizione che questo governo ha ribadito banalmente perché è una soluzione giusta, perché è una soluzione necessaria ed è una soluzione sì nell'interesse dei palestinesi ma a nostro avviso anche nell'interesse di Israele e dalla ragione per la quale posso dire che non condivido la posizione recentemente espressa dal primo ministro israeliano sulla materia. Dall'altra parte però io spero che si convenga sul fatto che il riconoscimento non può essere richiesto unilateralmente. Vale a dire, spero si convenga sul fatto che la precondizione per qualsiasi ipotesi di trattativa in questa direzione è il riconoscimento da parte degli interlocutori di Israele del diritto all'esistenza dello Stato ebraico e del diritto per i suoi cittadini a vivere in pace e in sicurezza. Che cosa può fare concretamente l'Italia? Io continuo a credere che noi dobbiamo soprattutto rafforzare la nostra storica capacità di dialogare contestualmente con Israele e con il mondo arabo come abbiamo fatto anche dall'inizio di questo conflitto. Dobbiamo lavorare per promuovere un'ulteriore tregua, lavorare al rirascio degli ostaggi, rafforzare l'autorevolezza dell'autorità nazionale palestinese che è l'unico interlocutore possibile, coinvolgere gli organismi multilaterali a partire dall'Unione Europea sulle ipotesi di gestione transitoria della striscia di Gaza una volta terminato il conflitto e poi su una serie road map per arrivare alla realizzazione della soluzione che condividiamo. Dopodiché le immagini di guerra che arrivano, concludo Presidente, dalla striscia colpiscono ovviamente tutti noi. Per questo il Governo italiano in linea con le altre nazioni europee e occidentali ha più volte richiamato la necessità di tutelare la popolazione civile. Voglio ricordare che siamo i pochissimi ad aver agito immediatamente e concretamente mandando aiuti a Gaza, inviando una nave ospedale, fornendo medici pediatri per aiutare gli ospedali emiratini a curare i minori palestinesi feriti e approfitto anche per annunciarvi che stiamo lavorando anche per portare i minori palestinesi in Italia per essere curati nei nostri ospedali. Signora Presidente, forse lei non voleva essere polemica ma ha fatto male a concentrarsi sul fatto che io non abbia fatto un riferimento al massacro di Amassa, agli atti terroristici terribili che noi, Alleanza Verdi e Sinistra, insieme a tutto il Parlamento italiano abbiamo condannato senza far seguire a quella condanna mai un ma o un però. Dopo tre mesi e mezzo di risposta israeliana a quell'attacco brutale, però, qui il però è necessario, occorre fare conti con quello che sta accadendo. Ripeto, 25.000 morti, migliaia di bambini. Ogni giorno i crimini di guerra che il governo israeliano e Benjamin Netanyahu sta mettendo in campo nella striscia di Gaza allontanano la prospettiva di una sicurezza per Israele, per i suoi cittadini, per le sue cittadine, per i palestinesi, per le palestinesi, per il Medio Oriente e per il mondo intero. Di fronte a questa realtà non sono più sufficienti gli appelli. Gli appelli al rispetto dei civili, gli appelli alla moderazione che noi abbiamo anche con il nostro governo più volte reiterato, non sono più sufficienti. Occorre un cambio di passo e se non si condividono le dichiarazioni di Netanyahu, che non sono dichiarazioni di uno che passa per caso, è il primo ministro israeliano che ha detto in modo molto netto, fino a quando ci sarò io non ci sarà mai uno Stato palestinese. Se il primo ministro si pone come una gigantesca pietra sulla strada per costruire un processo di pace, il richiamo alle roadmap non funziona più. Se vogliamo aiutare la costruzione di un processo di pace occorre fare alcune cose molto semplici. Primo, occorre riconoscere lo Stato palestinese, come peraltro questo Parlamento ha impegnato i governi della Repubblica, non certamente il suo, perché allora lei non era ancora al governo, a fare già da molti anni. È arrivato il momento di farlo. Occorre mettere in discussione le attuali relazioni. Non vuol dire cancellarle, non vuol dire non essere più amici di Israele, vuol dire però anche in sede europea ridiscutere per esempio le modalità del trattato di associazione tra Israele e Unione Europea, porre sul terreno diplomatico strumenti in grado di orientare anche il comportamento del Premier israeliano. Altrimenti, in assenza e concludo signor Presidente, in assenza di un cambio di passo anche il nostro governo, a prescindere dalle volontà più volte dichiarato, rischia di rendersi complice di quello che ogni giorno si configura come un inaccettabile massacro di civili in difesa. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3931 presentata dai deputati Ricchetti e da altri che ad oggetto iniziative di competenza, volte a garantire la continuità produttiva e occupazionale presso gli stabilimenti italiani di Stellantis e di Magneti Marelli nell'ambito di un piano di rilancio del comparto automobilistico. Il deputato Ricchetti ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Grazie Presidente. Presidente Meloni, stiamo parlando di una delle aziende simbolo del nostro Paese, già Fiat, poi FCA, oggi Stellantis, azienda che ha ricevuto dallo Stato italiano nel 2021 una garanzia per oltre 6 miliardi, garanzia vincolata al fatto che non ci fossero nell'anno successivo al prestito dividendi, all'anno e un giorno i dividendi è come ci sono stati per quasi 3 miliardi, Stato che ha ricevuto rassicurazioni circa gli investimenti sull'automotive, oggi il piano degli investimenti che questa azienda Stellantis presenta prevede più 11 veicoli elettrici in Francia rispetto in Italia, lettera ai fornitori sulle grandi opportunità di delocalizzazione verso il Marocco e il Presidente dell'Ambissario delegato dell'azienda che ieri ci invita a maggiore rispetto per i dipendenti. Le chiediamo se non sia il caso di convocare Presidente e a D per capire un'azienda così sostenuta allo Stato che intenzioni abbia nel nostro Paese. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgio Meloni ha facoltà di rispondere. Grazie collega. Il gruppo automobilistico Fiat, i marchi italiani collegati rappresentano una parte molto importante della storia industriale nazionale sia in termini occupazionali sia in termini di ricchezza prodotta, è un patrimonio economico che merita la massima attenzione e io penso che questo significa anche avere il coraggio di criticare alcune scelte che sono state fatte dalla proprietà e dal management del gruppo quando sono state distanti dagli interessi italiani, come a volte mi è capitato di fare, devo dire la verità, spesso nell'indifferenza generale. Penso allo spostamento della sede fiscale e della sede legale fuori dai confini nazionali, penso all'operazione di presunta fusione tra FCA e il gruppo francese PSA che celava in realtà un'acquisizione francese dello storico gruppo italiano.